Il sindaco di Napoli esprime il suo parere sulle candidature e boccia tutti, o quasi. Sulla candidatura di Piero De Luca e Franco Alfieri, il sindaco aveva già detto la sua in un'altra occasione, ma stavolta l'affondo è a sorpresa per Paolo Siani, il candidato simbolo del PD. Da cittadino del Vomero, so chi votare, ha detto il sindaco. Al deposito delle liste mi sembra che siamo di fronte ad una forte presenza di traino familiare e di cortile politico di appartenenza. Poi aggiunge, non sono nell'imbarazzo in cui si dovrebbero trovare altri che avevano detto che non si sarebbero candidati qualora nelle liste ci fossero state persone politicamente poco potabili. De Magistris giura che non sta facendo campagna elettorale, tuttavia ci si chiede quanto neutrale può essere dal momento che alcuni membri del direttivo DEMA sono candidati con potere al popolo e l'EU. D'altro canto, l'attivismo del governatore De Luca che inaugura cantieri e assume 350 persone all'EAV può essere eletto come una strategia elettorale per il figlio Piero, candidato del PD, nell'uninominale a Salerno e nel proporzionale a Caserta. Ma De Luca rivendica la concretezza delle sue azioni, tutto secondo programma, dice, e aggiunge l'amministrazione non si fa con le chiacchiere perché le palle, i cantieri, non li aprono. Così, dopo nove anni di lavori fermi, riapre la stazione metro di Melito. È il quattordicesimo cantiere che noi apriamo in due anni, 14 cantiere, quasi uno ogni due mesi. Siamo pronti a fare 350 assunzioni di giovani nell'EAV, un miracolo nel miracolo dopo il risanamento dell'azienda.